buonasera siamo nuovamente qui nella sala bellissima del cinema la compagnia per questo incontro che è stato organizzato dallo schermo dell'arte insieme all'università statale di milano e l'università di firenze il titolo è abitare il film il cinema e le xr immersive abbiamo con noi il professore andrea pinotti che è ordinario di estetica al dipartimento piero martinetti della statale di milano e la professoressa paola valentini professoressa associata in cinema fotografia e televisione al dipartimento sagas dell'università di firenze ci ramarichiamo moltissimo che manca una persona che doveva dialogare con voi e la professoressa barbara crespi sempre della statale che è malata forse di covide a casa a milano e non è potuta venire dunque come nasce questo invito noi ero a milano a giugno scorso quando il progetto an icon che andrea pinotti ci presenterà è un progetto vinto dal suo dipartimento un progetto europeo molto importante che funziona che andrà avanti fino al 2025 in quell'occasione veniva c'era un convegno di tre giorni dedicato ai lavori di an icon erano stati invitati due artisti due artisti che sono stati protagonisti di film e saranno perché uno ancora non è arrivato allo schermo dell'arte quest'anno ovvero rosa barba e giorgio andreotta calò io sono rimasta talmente affascinata e sorpresa dal ascoltare i vari aspetti in cui si articola questo importantissimo progetto europeo e anche sorpresa dal convolgimento degli artisti che appunto abbiamo subito iniziato a parlare e da lì è nata questa occasione che presentiamo a voi studenti penso che sarà ci siamo visti a pranzo e già il professor pinotti ci ha detto e ci ha raccontato alcune cose io penso che sarà un incontro super super interessante grazie a voi di essere qui e lascio a loro la parola allora grazie a lo schermo dell'arte grazie simile lucchesi per questa bella occasione di confronto di approfondimento e anche proprio di un'occasione per rendere accessibile anche ai più giovani anche ai futuri giovani studiosi quello che è sicuramente uno dei dei punti più avanzati della ricerca italiana e internazionale che si ricollega diciamo all'area degli studi di cultura visuale di cui appunto andrea pinotti è uno delle massime eccellenze italiane e non vorrei però rubare visto che si tratta anche di una prospettiva di studio e anche di un tipo di ricerca molto innovativa nelle sue caratteristiche e nei suoi diversi ambiti non solo speculativi teorici ma anche con delle riflessioni e delle applicazioni pratiche io vorrei appunto che innanzitutto chiederei innanzitutto andrea pinotti di spiegarci illustrarci un pochino questa ricerca che stanno facendo e sciogliere anche l'enigma di questo e che magari non ha tutti risulta immediatamente evidente quindi lascio a te la parola e magari a qualche grazie e poi dopo paolo grazie per questa introduzione grazie a silvia lo schermo dell'arte per questo invito mi fa sempre molto piacere presentare il progetto e perché sempre un'occasione poi per ricevere dei feedback molto importante delle critiche anche delle perplessità che indubbiamente emergono tutte le volte così diceva prima pranzo ogni volta che viene inventato un medium nuovo c'è sempre al tempo stesso la grande fascinazione per le possibilità che si dischiudono e anche però la paura di quello che potrebbe accadere basta pensare a quello che è successo con la fotografia con il cinema con la televisione anche e naturalmente la realtà virtuale di cui oggi si parla tanto mark zuckerberg come saprete un anno fa più o meno ormai poco di più nell'ottobre del 21 aveva trasformato facebook in meta e ci ha profetizzato che ci trasferiremo tutti in un mondo virtuale in cui lavoreremo con i nostri avatar in cui ci divertiremo in cui passeremo tempo con i nostri amici e in cui i chirurghi si formeranno per operare cuori virtuali prima di operare i nostri cuori reali perché abbiamo chiamato questo progetto che è nato appunto al dipartimento di filosofia ma non è un progetto solo filosofico perché ci sono dentro storici dell'arte storici del cinema teorici dei media informatici ovviamente pedagogisti perché promettono queste nuove tecnologie orizzonti diversi anche nella nell'educazione storici della scienza è un progetto che si chiama an icon perché lo dicevo anche stamattina con parla i trattini non mi sono mai piaciuti la filosofia chi l'ha un po frequentata soprattutto nel novecento ha visto che c'è stata una proliferazione di trattini trattini sono sempre indicatori di un problema terminologico di una incapacità di trovare la parola giusta ma quando si dice post moderno che non è tutto e niente non è più moderno ma che sia che venga dopo il moderno non è che ci aiuta tanto a capire poi che cosa sia questo post moderno e quel trattino appunto però ci siamo rassegnati a usare questo trattino perché perché si tratta ma lo vedrete fra un secondo d'immagini e si tratta delle tecnologie più avanzate di produzione d'immagine oggi produzione immagine oggi già questo sarebbe il titolo per star qui tre ore perché voi avete una quantità impressionante di immagini in questo momento nel vostro cellulare non si sa bene come ci stiano nel senso che non stanno nel buio del vostro cellulare come stanno le statue o i dipinti nei magazzini nelle cantine dei musei perché se io scendo in cantina e mi faccio aprire la porta al custode vedo un dipinto allo stesso modo grosso modo in cui lo vedrei se fosse spostato in sala perché è un dipinto che è giù lì e lo stesso dicasi per una scultura ma siamo sicuri che quell'immagine che voi richiamate dalla vostra galleri e si manifesta in tutte le sue forme i suoi colori non è così quando la richiudete dentro nel buio del vostro cellulare e questa vita oscura ci pensate le vostre immagini la trascorrono per la sta grande maggioranza della loro esistenza a volte addirittura fate delle scattate una foto la ricevete su whatsapp su instagram poi non la guardate più per tutta la sua vita quella foto lì rimane una possiamo davvero chiamarla ancora immagine se nessun occhio si aprirà mai su questa foto pensiamo alle alla quantità di immagini che registrano tutti i giorni ora dopo ora settimana dopo settimana le videocamere di sorveglianza poi quando c'è un delitto e poliziotto l'investigatore va a chiedere la registrazione ma non funzionava la telecamera di sorveglianza non funziona quasi mai quando serve ma funziona sempre quando non serve e si produce un'enorme quantità di immagini sulle quali nessun occhio umano mai si aprirà allora oggi siamo immersi in questo mondo di immagini fate si parla continuazione di ambienti immersivi tutto oggi deve essere immersivo tutte le esperienze che facciamo devono essere immersive la vostra didattica deve essere immersiva quando andiamo in un museo dobbiamo immergerci nel museo questa mania di immersività cos'è questo diktat no questo imperativo di essere immersivi a tutti i corsi bisogna aprire gli occhi su questa su questa realtà diciamo stamattina siamo diventati touch nel giro di pochissimi anni io non sono nato touch e però lo sono diventato mia mamma 86 anni smanetta dalla mattina alla sera sui tablet come una hacker e certamente lei non è nata touch oggi chi nasce touch l'esperienza dell'immagine che cos'è un'esperienza digitale ma nel senso proprio etimologico del termine il digitus latino il ditto oggi un'immagine che tu non possa zoomare allargare ruotare restringere manipolare non è più un'immagine allora l'immagine oggi non è più solo un oggetto visuale tu dicevi prima gli studi di cultura visuale no che cercano di farci capire cosa vuol dire fare un'esperienza di immagine oggi e oggi è qualcosa che deve essere anche sempre toccato manipolato e vissuto col proprio corpo gli ambienti immersivi sono un po' questa cosa qua sono delle immagini icons perché icon è un termine che è inglese ma è anche greco icon l'icona che però sono an an sta lì come sta in normale come sta in asfittico come sta in anestesia cos'è l'anestesia è l'estetica l'aestesis la sensazione senza tu sei anestetizzato di che non senti cos'è allora un an in an icon è una forza che hanno queste immagini di fare di tutto perché tu non ti renda conto che sono immagini è una potenza che loro hanno una forza di convincimento un effetto che loro producono e tutto quello che cercano di fare è farti credere che non lo siano e tutte le volte che ci sono delle forze in giro che ti fanno credere qualcosa che non è bisogna tenere gli occhi aperti evidentemente sviluppare una coscienza critica in che modo fan finta di non essere immagini queste immagini perché si fanno ambiente perché ti avvolgono ti assorbono all'interno della loro dimensione non sono dei quadri non è un film ce li hai lì di fronte è piuttosto qualche cosa che ti ingloba e adesso vi voglio far vedere un'esperienza molto semplice sconcertante nella sua semplicità che a tempo stesso ci fa capire forse non tutti voi avete già provato un casco che cosa significa entrare in un ambiente immersivo è un'esperienza che non vi dovrei far vedere sullo schermo perché perché dovreste avere un casco quindi prendiamola con le pinze è un modo per alludere a questa esperienza cercherò di commentarla sappiamo che la vediamo su uno schermo piatto dovremmo vederla in un ambiente a 360 gradi questa esperienza si chiama walk the plank cammina sull'asse è stata somministrata in questo video a una squadra di football inglese quindi ragazzi super addestrati a controllare le loro reazioni muscolari le loro reazioni psicofisiche vediamo cosa succede vedrete uno split screen cioè vedrete a un certo punto su una parte dello schermo quello che vede in soggettiva il calciatore che indossa il casco sull'altra si vede invece lui da fuori cosa succede con l'esperienza entra in ascensore clicca il bottone davanti a sé ha un asse sicuramente solidamente appoggiata sul terreno ma quando l'ascensore lo porta in alto lui si trova in cima un grattacero e c'è l'asse ma l'asse questa volta lui la vede sporgersi fuori dalla finestra ed è invitato a camminare sull'asse ci sono molti bip in questo video molte four lettera guardate come stura secondo tentativi noi vi faccio vedere tutti i 11 andiamo su andiamo su non fa neanche un centimetro allora se mettete su google su youtube walk the plank troverete un mucchio di queste esperienze sono tutte praticamente molto divertenti alcune sono praticamente sadiche perché chi riesce ad andare in fondo all'asse di un metro e mezzo poi gli chiedono di saltare e lui col suo corpo o lei col suo corpo salta e salta un centimetro e atterra sul pavimento ma quello che lui vede nel casco è che precipita dalla grattacero e si schianta che non è esattamente quella cosa per cui adatta diciamo così per i deboli di cuore in alcune versioni particolarmente sadiche l'asse reale di legno sul pavimento ci mettono sotto degli spessorini che ti balla anche sotto i piedi quindi la tua precarietà è ancora più messa in discussione perché è interessante la plank per una serie di motivi nella sua semplicità di esperimento noi nel progetto la somministriamo sempre come un rito di passaggio ai nuovi che arrivano reclutati e ne abbiamo viste di belle ma anche chi l'ha già provata devo dire che tutte le volte è una sfida comunque perché si crea una sorta di sdoppiamento di conflitto tu sai che sei al sicuro in una stanza tu sai che l'asse appoggiata sul pavimento tu sai che non rischi niente entri nel casco il casco ti porta da un'altra parte è una bilocazione prima si diceva il miracolo dei santi una volta che erano in un punto ma anche in un altro la realtà virtuale è un teletrasporto che ti porta in un altro mondo e lì il tuo sistema audiovisivo senti il vento quando ti esponi fuori della finestra vedi una profondità vertiginosa sotto i tuoi piedi e hai un conflitto tra quel che sai quel che vedi quel che senti il tuo sistema proprio oggettivo il tuo corpo ti dice che hai i piedi su un asse di legno se sposti il piede un po a destra un po a sinistra senti subito il pavimento ma gli occhi ti dicono che stai mettendo il piede nel vuoto allora questo confliggere di informazioni che arrivano tuo cervello è qualche cosa l'avete visto in sportivi estremamente autocontrollati nelle loro reazioni non riescono a resistere è istintivo e viscerale ma è anche un mondo ed è quella la prima cosa che colpisce quando uno si mette un casco a 360 gradi cioè questi che hanno paura a fare un passo in avanti si girano indietro e trovano che c'è la parete dell'ascensore che li che li protegge ora qual è la differenza tra questo mondo questo modo di fare esperienza dell'immagine e i modi precedenti prendiamo un quadro avete lì un quadro di edgar de gara uno che non scherzava con i suoi soggetti gli tagliava le gambe senza problemi non le ballerine che lui ha dipinto in maniera ossessiva molto spesso se ne vede solo metà e l'altra metà è fuori cornice lì avete una fotografia carnal knowledge di della marder no e avete anche lì una ragazza tagliata sotto le ginocchia lì sotto ci avete per un motivo che vi dirò fra un secondo degli spettatori che sono terrorizzati da una scena di un film dell'orrore allora cosa succede con queste immagini succede che io non è che se voglio sapere che tipo di calzature portava quel signore lì con il cilindro non posso andare al quadro tirare giù la cornice per inquadrarlo in maniera diversa non posso se voglio sapere che piedini aveva la ragazza in piscina andare alla fotografia e spostare inquadratura e se un hitchcock ma ha deciso che io devo vedere solo la vittima ma non il carnefice del suo saico io il carnefice non lo vedrò mai non che posso andare allo schermo e spostare l'inquadratura e inquadrare quello che hitchcock ha deciso dove rimanere per sempre fuori campo tra l'altro il fuori campo in hitchcock in tantissimi altri maestri del brivido è proprio la chiave no che ti fa scattare la suspense quello che non vedi è addirittura più importante di quello che vedi perché perché ti fa lavorare l'immaginazione noi siamo tendenzialmente degli animali pigri ci piace lavorare poco ma ci piace invece lavorare di fantasia fantasia se si atrofizza non stiamo tanto bene e l'arte se ci pensate il cinema sono delle macchine che fanno lavorare la fantasia no è uno dei motivi per cui l'erotismo è più interessante della pornografia perché nel porno vedi tutto ma dopo tre secondi anche ti annoia molto no mentre l'erotismo quel vede non vedo quel velare ti fa scattare appunto l'immaginazione allora se io sono in un mondo 360 queste limitazioni questa tirannia dell'inquadratura come sta chiamata hitchcock non mi farà mai vedere quello che lui ha deciso che deve rimanere per sempre invisibile e io li lo frego lì da un certo punto di vista il regista no perché mi metto il casco e sai che c'è nel casco guardo quel che voglio io divento regista di me stesso divento colui o con lei che decide l'inquadratura proprio come succede nella percezione ordinaria perché io adesso sto guardando voi ma sapete un certo punto mi stanco e decido che per il resto di questo incontro io guardo il tecnico che gentilmente mi ha aiutato a risolvere il problema dell'audio prima o guardo solo la paola nel casco sembra che io riesca a emanciparmi da quella tirannia monocratica nel potere in mano solo al fotografo al pittore regista che hanno deciso che devo quel che devo no decido io perché devo però come spesso accade come sempre accade quando si inventa un medio nuovo non dovete mai rimanere abbagliati da quello che vi promette dovete sempre domandarvi che cosa vi toglie diciamo stamattina maclouan diceva si abbiamo inventato la ruota riusciamo andare da tante parti senza fare nessuna fatica poi però i nostri muscoli si atrofizzano perché non li usiamo più abbiamo dovuto inventarci la palestra perché altrimenti poi finiamo tutti allettati e allora che cos'è che ci toglie il casco visto che ci ha dato apparentemente questa libertà di guardare dove vogliamo proprio come sto facendo io adesso che ho deciso di guardare per un attimo paolo ci toglie una libertà una libertà di cui prima non eravamo tanto in grado di mettere a fuoco che la stavamo ne stavamo godendo la libertà di essere al cinema di guardare un film dell'orrore di farcela addosso perché i film dell'orrore quando sono fatti bene ti prendono visceralmente comincia a sudare le mani comincia la palpitazione e allora che cosa vuoi fare per uscire da questo stato che ti attira da un lato ma non vuoi star troppo male perché in fondo star troppo male vorrebbe dire che quella situazione ti sta veramente minacciando mentre tu vuoi essere sicuro che è solo un film che è finzione come mai ci si agita al cinema come mai si piange o si ride per il destino di un personaggio fittizio no e sono davvero emozioni vere quelle che provo al cinema quello terrore quella paura sono davvero reali perché le mani effettivamente mi sudano come se io fossi minacciato davvero no il cuore palpita ora cosa faccio ah no è solo un film mi giro e guardo l'amico l'amica che sono venuti con me al cinema che non appartiene racconto per scoprire che magari è più terrorizzato di me allora guardo uscita toilette guardo fuori campo esco dall'immagine e dico se posso uscire dall'immagine si trattava solo di un'immagine e riconduco l'immagine al suo bordo al suo limite alla sua cornice che non mi farà mai male perché un'immagine non è capace di ferirmi e quel killer quel folle quel mostro quel pazzo che mi stava terrorizzando nel c nel film dell'orrore rimane appunto una cosa di cinema quando siete nel casco questa cosa qua non la potete più fare non potete più uscire dall'immagine perché nel casco una volta che l'avete messo ovunque vi giriate troverete immagini dentro nel casco io non posso più decidere che invece che guardare la gioconda guardo l'estintore che pende di fianco la gioconda che invece che guardare il film dell'orrore guardo il segnale di uscita o di toilette quella roba lì non la posso più fare è una libertà che perdo quali sono le conseguenze di questo se è vero che noi oggi mediamente passiamo una decina di ore che sono enormi come quantità hanno fatto un calcolo negli stati uniti un paio di anni fa ad avere a che fare con gli schermi di sveglio mattino guardo la sveglia guardo il mio watch poi comincio col telefonino guardo le accendo la televisione le news in sottofondo poi metto lavorare al computer poi esco si esco ma dove vado vado magari metropolitana altri schermi vado in stazione altri schermi cosa succede se questo essere di fronte ad uno schermo a un certo punto diventa un esserci dentro un vivere in una maniera immersiva questo tipo di esperienza se siamo diventati così rapidamente touch nel giro di pochissimo tempo diventeremo oltrettanto rapidamente immersive natives immersivi nativi e questo che cosa comporterà per la nostra vita perché uno dice ma sì ma è una roba che riguarda le immagini mica la vita nel suo complesso quanto e quale ruolo quantitativamente e qualitativamente parlando rivestono le immagini nella nostra esistenza qui si tratta di capire che abbiamo a che fare con una potenziale trasformazione che impatta non solo sul modo in cui noi viviamo le immagini ma sul modo in cui noi viviamo in generale e questo è uno dei tratti che io penso più affascinanti anche più difficili da studiare che è un tratto che potremmo una questione che potremmo riassumere nel concetto di storicità della percezione il fatto cioè che i nostri occhi si aprono sul mondo come si aprivano gli occhi degli antichi egizi dei uomini rinascimentali degli uomini dell'ottocento hanno calcolato che più o meno il tasso di miopia era lo stesso in antico egitto che odia stigmatismo come si aprono gli occhi degli orientali degli extraeuropei no abbiamo due pupille la rete nei coni bastoncelli però questa questione di vedere più in generale di fare esperienza col nostro corpo non è solo una questione di onde elettromagnetiche entrano escono questioni di meccanica della luce una questione di fisiologia della retina è anche una questione di sguardo cioè quello che io vedo è quello che su cui fisso la mia attenzione quello che non vedo in un campo visivo non è solo una questione che io non vedo il retro di questo computer o se ci metto il bicchiere dietro non lo vedo i regimi di visibilità di invisibilità pensiamo al velo in tutte le sue implicazioni prima cristiane poi islamiche i regimi di visibilità hanno anche un indice politico e hanno anche un indice storico voi siete nati qui ora non siete nati là allora in un altro posto in un altro tempo non l'avete deciso deciso voi siete stati gettati in questo mondo a un certo punto quello che i filosofi chiamano gettatezza che non è proprio un termine bellissimo ma che dà l'idea del fatto che uno non decide da sé quando e dove venire al mondo e in questo mondo ci trovate delle protesi non dovete pensare alla tecnica che è una roba che c'è o non c'è no ma l'uomo è naturalmente tecnico ci sono delle ricerche molto belle di neuroscienze per cui se io ho un frutto là e non riesco ad arrivarci e prendo il bastone me lo tiro verso di me uso una protesi banalissima no come divento come l'uomo dei fantastici quattro l'uomo chewing che allunga il braccio il vostro cervello mappa quel bastone come se fosse un braccio lo fa diventare un organo anatomico lo mappa come se esattamente non fosse una roba diversa dalla mano e dal braccio ma fosse semplicemente il braccio che si prolunga allora l'uomo si prolunga naturalmente nelle tecniche allarga il suo orizzonte di azione ma queste tecniche lo modificano noi abbiamo modificati nella nostra anatomia anche dalle tecniche e ora questa interazione questa azione reciproca di essere umano di corpo di anatomia di natura da un lato di organi e dall'altro di elementi tecnici di dispositivi è quell'intreccio di naturale artificiale sul quale non deve mantenere gli occhi aperti paola voi c'è un po di ping pong altrimenti voi parlo solo in me nella gola secca veramente hai già detto talmente tante cose ma almeno fissiamo l'attenzione su alcune di queste prima di svilupparle tutte rimarré appunto sull'idea sempre davvero molto attuale appunto protesica di di mcluan della protesi che aggiunge stende il corpo però anche e toglie qualche cosa per chiederti così un approfondimento nella tua impressione su quest'idea in fondo di multisensorialità no che la sostituzione dell'immagine con l'ambiente ci vorrebbe per certi versi anche vendere perché dall'esempio anche che tu hai appena mostrato no ci hai ricordato che in qualche modo in in alcuni momenti questo esperimento de plank è stato necessario rendere quest'asse cioè da un lato il bastone che diventa il braccio però dall'altro lato in alcuni momenti è stato necessario rendere quest'asse più scricchiolante più vera no dargli una matericità sotto i piedi e allora questo però mi viene da dire è multisensorialità o è che per avere queste esperienze immersive dobbiamo entrare in una situazione in realtà di deprivazione sensoriale peraltro non diversa da quella che il cinema no ci ha insegnato da tempo no che gli studio che gli spettatori sudassero battessero le le quanto battessero gli occhi sbattessero gli occhi di fronte a racconti di paura e io sono abbastanza vecchi da ricordare degli studi ancora pionieristici agli anni ottanta francesco casetti la licea lumbelli che si in cui questi genere di osservazioni si facevano ancora e con la percezione che c'era una sofferenza fisica diciamo spettatore quindi è immersio è un ambiente davvero alla fine solo un'immagine più ricca è una multisensorialità o in realtà una deprivazione cioè è la protesi che stende o la protesi sostituisce l'arto insomma la dialettica che già ma è una questione molto affascinante tu l'hai proprio detta benissimo perché è un'arma a doppio taglio alla fine perché da un lato quando tu vai il casco se fai così la tua mano non la vedi tutti i guardi i piedi non li vedi a meno che tu non sia rappresentato dentro nel casco da un avatar da un rappresentante digitale da un proxy diciamo così o sotto forma parziale un guanto una mano o magari proprio perché sei una figura intera allora questo è lo stato dell'arte per lo più oggi la esperienza con i caschi è un'esperienza audiovisiva dopo vi farò vedere una cosa che ha cercato di superare questa ma stanno già sperimentandosi delle tute full body in cui tu sei mappato nella tua corporità integrale stanno già sperimentando delle integrazioni olfattive dei caschi sono i caschi olfattivi cioè che cos'è che si sta cercando di fare una un soddisfacimento il più possibile completo multisensoriale appunto com'è la nostra vita che è multisensoriale in questo momento li vedo ti sento ma ho anche delle informazioni tattili che mi vengono date dalle mie natiche perché sono seduto dai miei piedi perché li ho per terra eccetera eccetera c'è un odore di questa stanza anche se noi dal punto di vista olfattivo rispetto agli animali abbiamo anche fatto tantissimo per rimuovere non la dimensione olfattiva dal nostro dal nostro corpo dalla nostra esperienza ma dicevo è un desiderio questo di essere capaci di riprodurre la realtà nella sua totalità che è un vecchio sogno del cinema se noi leggiamo gli anni 40 bazin barjavel che scrivevano di cinema totale un cinema che sognavano doveva essere capace di riprodurre non semplicemente la porzione video visiva oculare no della realtà o con l'aggiunta del sonoro poi anche quella del sonoro ma tutta la vita beh ma la fantascienza qui ci viene in soccorso perché è un campo meraviglioso studiare la realtà virtuale oggi anche la realtà aumentata se poi c'è tempo faremo anche una riflessione sulle analogie e differenze è meraviglioso perché se tu vai a leggere romanzi di fantascienza di 50 anni fa di 60 anni fa ma addirittura dell'ottocento ci sono degli romanzi di fantascienza dell'ottocento che ti parlano degli ologrammi delle apparizioni ologrammatiche come se fossero delle delle resurrezioni dei morti esattamente quello che fanno oggi quando fanno un concerto con michael jackson in ologramma è la resurrezione dei morti o tupac è la resurrezione del morto che viene ricreato in ologramma e fatto cantare insieme con la band i ballerini ma tutto questo non era in fondo già stato ampiamente immaginato proprio nel cinema di fantascienza ma questo cyber thriller della big girl of strange days racconta la storia di questo squid di questo questa calotta ti metti in testa ed è una calotta che va in registrazione e poi c'è anche la funzione playback e che cos'è questa funzione di registrazione? che chi indossa la calotta vive ma avete già capito che si va verso il black market qui no? vive che cosa? un'esperienza di stupro un'esperienza di tortura un'esperienza di estremo piacere un orgasmo viene registrato in maniera totale dallo squid questo squid poi viene trasferito sulla testa di un'altra persona che va in playback e nel playback rivive quella persona in prima persona in una specie di soggettiva cinematografica però estesa non solo alla visione ma a tutto il corpo a tutte le sensazioni integralmente quello che la vittima diciamo così nel caso di una violenza o di una tortura aveva vissuto al punto che ti può bruciare il cervello perché sono esperienze che se quella vittima l'hanno torturata al punto che è morta se tu rivivi la sua esperienza metti a rischio evidentemente la tua vita perché potresti a tua volta morire come la chiamiamo questa cosa qua? io la chiamerei empatia totale cos'è l'empatia? l'empatia è tradotto nel linguaggio ordinario un sapersi mettere nei panni altrui mettiti nei miei panni capacità di empatizzare di se tu sei una mia amica e sei contenta io sono contento con te mi metto nei tuoi panni e gioisco per te insieme con te se sei triste o hai subito un lutto soffro per te questa è un'empatia totale che non è semplicemente un'empatia che riguarda le emozioni essere contento essere triste ma è un'empatia che riguarda i movimenti corporei ma siamo così sicuri poi che le emozioni siano da separare dal movimento motion emotion se guardate in inglese capite subito che l'emozione è un movimento l'emozione non sta in una misteriosa interiorità dove starebbe la vergogna no? la vergogna è quella roba che ti viene su e la senti inondarti di sangue il volto che arrossisce dalla vergogna l'insulto la rabbia è quella roba che non va giù è quel rospo che non riesci a ingoiare molto fisico no? è quella roba che ti sta lì che non ti va giù quello che ti hanno fatto allora se noi rileggiamo le emozioni dal punto di vista delle mozioni dei movimenti del corpo ci rendiamo conto che i due mondi sono molto più vicini di quanto la nostra cultura tradizionalmente il dentro il fuori l'interiore l'esteriore ma cosa vuol fare poi la Bigelow qui? non è certo un caso che la Bigelow si sia convertita alla realtà virtuale la Bigelow ha girato un documentario dedicato ai rangers nella Garamba National Park della Repubblica Democratica del Congo perché voleva raccontare l'impegno quotidiano snervante faticosissimo di un gruppo di rangers in difesa degli elefanti dai bracconieri che li cacciano illegalmente presentato al Tribeca Film Festival nel 2017 che è stato un anno particolarmente hype per la conversione si potrebbe dire di molti artisti e registi vedremo fra un momento un artista cinese molto famoso e vedremo anche un altro regista molto famoso alla realtà virtuale e voi avete in questo documentario delle visioni dall'alto prese da un drone verosimilmente ma anche delle visioni soggettive state in mezzo con i rangers vedete qui avete una visione proprio come se camminaste con loro e a un certo punto incontrate la carcassa dell'elefante ancora calda mutilata da poco per portare via le zanne eccetera eccetera quando le hanno chiesto senti ma perché tu che sei una regista mainstream cioè mainstream comunque voglio dire una regista di grande successo internazionale ti sei messa a fare un documentario in realtà virtuale I think that the simple answer is empathy è l'empatia cioè il tentativo di portare lo spettatore dall'essere di fronte ad uno schermo l'essere dentro una storia e condividere questa storia un altro caso è Ai Wei Wei sì magari volevo solo dire se posso inserirmi come no la Bigelow diciamo vede la mia massima sempre adesione anche quando appunto magari le cose possono essere meno riuscite come in questo caso però diciamo trovo da un lato che in qualche modo la sua figura dimostra come per certi versi il cinema sembri quasi un percorso obbligato in un certo senso sia nel senso che scusate ripetizione se si fa cinema in un certo modo giustamente anche mainstream ma nel senso popolare ecco più che mainstream per logiche economiche produttive che alla fine vedono la Bigelow non sempre allineata finisci in qualche modo per andare su le nuove appunto possibilità e però dall'altro lato anche il cinema un po' come banco di prova mi riferisco al fatto per esempio appunto che in Strange Days in fondo è vero viene inventato come droga tant'è che si usa all'interno del film tutte le metafore appunto di friggersi il cervello eccetera tipicamente associate alla tossicodipendenza eccetera però di fatto poi c'è anche una parte del film in cui vedi anche uno che corre sulla spiaggia c'è l'idea in qualche modo di un recupero di un tipo di esperienza che è preclusa quindi appunto c'è anche l'idea di un rito se non dell'empatia di ritrovare calandosi nei panni di qualcun altro una dimensione di pathos che forse appunto la vita nel 99 e non solo i preclude e poi dall'altro lato anche quest'idea appunto immersiva con lei è arrivata io trovo ma queste sono sessioni personali che purtroppo nelle conversazioni affiorano un cruciale il suo passaggio per un film come The Heart Locker che alla fine era uno sminera la storia di un soldato il cui la prerogativa era appunto disinnescare le bombe le bombe a mano e lei ci fa patire in fondo quel casco lì che questo artificiere usa perché si deve proteggere non sente più si isola è in qualche modo anche quello già una una prova di che cosa vuol dire indossare le attrezzature e avvicinarsi in un modo diverso mediato e immediato ma questo è un concetto che so che tu hai molto al centro dei tuoi studi e su cui magari appunto parlare dal dopo ecco quindi prima di passare diciamo artisti che effettivamente sono una tua riflessione su quanto il cinema possesso ancora un laboratorio non solo dal punto di vista dell'esperienza di visione ma anche della ricerca o anche della divulgazione o se sia solo il luogo di una banalizzazione di una vulgata in qualche modo dell'area di azione di questi nuovi mezzi ma io credo se ti faccio passare ti interrompo il filo hai fatto benissimo perché è la cosa poi alla fine più bella di questi incontri altrimenti uno parlerebbe da solo davanti a uno specchio e no io credo sempre parlando guardando queste nuove tecnologie con una prospettiva un po' a volo d'uccello no c'è un po' panoramica che non le guardi solo in quel che sono ma che cerchi di inquadrare in una storia un po' più ampia mi verrebbe da dire che oggi il rapporto tra realtà virtuale e cinema che sembra essere il suo fratello maggiore perché ci sono appunto tanti registi che dal cinema vanno verso la realtà virtuale e si portano dietro ovviamente tutto il loro bagaglio le loro espertisi il loro sguardo questo rapporto tra realtà virtuale e cinema abbia un po' mutati e smutandis le stesse caratteristiche che ha avuto la fotografia quando è nata nei confronti della pittura ora quando è nata la fotografia molti pittori sono andati sull'astrico perché la gente invece che farsi fare il ritratto di famiglia o individuale dal pittore andava dal fotografo era molto più rapido costava molto meno ed era anche più accurato dal punto di vista della oppure si sono convertiti questi pittori in fotografi per riuscire a sbarcare il lunario e sopravvivere però cosa è successo che la fotografia ha un concetto di dire beh ma non c'è la mano qui è una roba fredda automatica è solo la macchina un'immagine macchinica inumana priva di vita e ora ha cominciato a dipingere le fotografie il pittorialismo quella fotografia che viene ritoccata con i colori della pittura o che imita anche la pittura stessa ora sembrava quasi che la fotografia avesse innanzitutto all'apparire messo fuori gioco la pittura poi la pittura si è vendicata ed è andata a dipingere la fotografia come dire guarda che hai bisogno ancora di me e la fotografia parassitava sulla pittura ereditava in maniera parassitaria certi modi di rappresentare che erano quelli della pittura oggi si potrebbe dire più o meno la stessa cosa il cinema si sente in qualche modo un po' scavalcato dal punto di vista della tecnologia da questa sorella più giovane e più tecnologicamente avanzata che la realtà virtuale poi si vendica perché la realtà virtuale è ancora in fasce diciamo così non sa bene cosa fare della sua vita è ancora in uno stadio acerbo e a chi guarda per capire come deve esprimersi guarda il cinema cioè si fa si fa accompagnare per mano si fa portare in discoteca dal fratello più grande diciamo così e questo credo che sia siamo privilegiati noi in questo momento perché siamo nella posizione di poter vedere due media che litigano si aiutano un po' come due fratelli potrebbe dire che a volte litigano a volte si aiutano a volte sono solidali a volte invece competono per le attenzioni dei genitori o degli insegnanti e ci troviamo proprio in un momento storico che assomiglia molto al momento in cui la fotografia cercava il suo spazio rispetto alla pesantissima tradizione che era rappresentata dalla pittura con tutta la sua autorevolezza anche col fatto che era l'arte alta e invece la fotografia sembrava l'arte ci è voluto un bel po' per dire che fosse arte e tutto questo Benjamin l'ha detto benissimo ma abbiamo speso così tanti litri di inchiostro a interrogarci se la fotografia fosse o meno arte se andava inclusa nel novero nel pantheon delle arti o se invece andava a escluderla perché era solo una rappresentazione meccanica inumana impersonale del mondo e diceva beniamine abbiamo sbagliato completamente domanda avremmo dovuto porci una domanda completamente diversa dopo che la fotografia ha fatto la sua comparsa come si è trasformata la nostra relazione all'arte noi non guardiamo più la gioconda con gli stessi occhi con cui era possibile guardarla prima che ne fosse possibile la riproduzione fotografica e la sua contestuale dispersione e diffusione sulle cravate sui mag del caffè sulle cartoline sui poster quelle cartoline che poi hanno consentito a Marcel Duchamp di mettereci baffi cioè di dissacrare la gioconda prima non era possibile una roba del genere perché la gioconda era unica ma dopo che è nata la fotografia l'unico sappiamo bene che la fotografia è tutto quello che c'è andato dietro l'invenzione del cinema che è fotografia in movimento da un certo punto di vista è uno dei motivi per cui oggi è tutto un déjà vu cioè noi è vero che magari qualcuno di voi non è mai stato a Bali o a Pizzichettone ma va benissimo il punto è che quando ci andrete l'avrete già sempre vista perché l'avrete già cercata su Google Images l'avrete già premediata e anticipata da un'esperienza fotografica o da un'esperienza video io penso che siamo in un momento in cui è verissimo che ci sono tante cose brutte di realtà virtuale in giro dal punto di vista estetico anche se uso questo aggettivo in maniera così un po' alla leggera ma che siamo in un momento molto interessante perché vediamo il girino che sta per diventare rana e non lo è ancora ma sta già muovendo i primi passi da solo grazie e quindi l'empatia appunto della Bigelov questo punto di vista diciamo è l'abbandono di una dimensione che il cinema vabbè non sappiamo cosa intendesse poi fino in fondo la Bigelov ma tu la leggi come appunto un litigio diciamo tra l'empatia cinematografica che è quella dell'alerta virtuale in cui quell'aspetto lì vi voglio far vedere qualche esempio che mi consentirà di sollevare qualche sopracciglio qualche ne ho solo due ma insomma almeno uno su cosa voglia dire empatizzare in realtà virtuale tra l'altro se voi ascoltate con attenzione è vero che il nostro discorso pubblico è infarcito di immersivo immersività tutto deve essere immersivo sembra un obbligo sembra un imperativo categorico ma dobbiamo anche essere moltissimo empatici ci si chiede anche quello sembra una specie di imperativo etico Barack Obama si rivolge quando era presidente agli studenti della Northwestern dice soffriamo di un deficit empatico non siamo abbastanza empatici bisogna essere empatici non solo con gli altri esseri umani non più homo homini lupus ma homo empaticus che abbraccia l'altro nella sua dignità di essere umano dobbiamo essere empatici con gli animali dobbiamo essere empatici con le forze della natura perché altrimenti qui sappiamo bene dove stiamo andando a rotoli cioè che stiamo non empatizzando con il pianeta stiamo distruggendo anche noi stessi insieme con con il pianeta e per cui è interessante mettere insieme queste due cose questo obbligo all'empatia e anche qui occhio perché io credo che l'empatia sia troppo spesso declinata in termini tra luce e vino no? volemose bene l'empatia pro sociale in cui tutti dovremmo fare il bene dell'altro ma empatia vuol dire mettersi nei panni degli altri ma anche il torturatore per far bene il suo mestiere deve sapersi mettere nei panni degli altri il sadico deve sapere dove ti fa più male e come fa a sapere dove ti fa più male? si trasferisce virtualmente nel tuo corpo perché sa che quell'organo lì quel punto lì del corpo è particolarmente doloroso e colpisce lì ma non ti vuole bene no? un manipolatore nei rapporti umani nei rapporti interpersonali è tendenzialmente una persona capace di empatia perché sa qual è il tuo punto debole sa mettersi nei tuoi panni e capisce dove deve colpire o dove deve manipolare no? quindi questa idea che essere empatici significa essere più buoni cioè c'è un'empatia positiva diciamo così c'è un'empatia negativa uno di questi uno dei tratti più ingenui di questa produzione in VR è che invece loro la vedono sempre solo dal punto di vista dell'empatia positiva ad esempio Ai Weiwei che ha spesso un afflato umanitario nelle sue opere ha usato questo termine cinese e qui se ci sono degli studenti delle studentesse cinesi mi perdoneranno perché io non conosco il cinese l'ho trovato trascritto Tong King it means that you share feeling or emotion with another person c'è questa capacità di condivisione dei e lui che cosa ha fatto ha fatto ha messo insieme in un dittico due opere diverse che sono opere che mostrano che cosa vuol dire sfruttare gli animali in questo caso gli elefanti nel Myanmar e sfruttare i rifugiati Rohingya in Bangladesh due situazioni molto diverse e lui le ha messe insieme perché è il tema dello sfruttamento e dell'innescare nello spettatore una compassione per questo per questi esseri queste creature animali nell'un caso umano nell'altro che vengono appunto sfruttate tra l'altro mostrandovi questi video questo mi dà anche il destro per dire due parole su che cosa vuol dire virtuale cosa state vedendo qui ancora una volta ve lo sto traducendo su uno schermo ma dovremmo tutti avere un casco in testa adesso per capire cosa stiamo vedendo state vedendo quello che ho visto io questa è una mia esperienza personale di questi video io ho registrato così naturalmente se io adesso lo rifacessi potrei decidere di girare la testa dentro in quel mondo lì da un'altra parte proprio come la giro adesso e vedere altre cose e se lo fa Paola ne vede delle altre ancora e allora che cos'è un'opera in realtà virtuale non è proprio come la gioconda non è proprio come psycho non è proprio come un film perché accade di volta in volta sempre in maniera diversa virtuale allora e lo capiamo anche se torniamo indietro perché virtuale è vero che riguarda nuove tecnologie ma ha come aggettivo uno sfondo filosofico molto antico che risale addirittura a Tommaso se non ad Aristotele virtus è la potenzialità questo tavolo è di legno ha una forma rettangolare ma anche una potenza che è data dal suo essere di legno se io lo porto dal falegname lo posso far trasformare in mille stuzzicadenti questo tavolo ha è virtualmente mille stuzzicadenti cioè può se lo porto là attualizzarsi trasformarsi assumere una nuova forma e quella forma sarà mille stuzzicadenti quando io mi metto un casco mi sto mettendo una virtualità cioè è quel mondo lì degli elefanti ma come accadrà come si attualizzerà dipenderà da dove io giro la testa e diventerà tutte le volte una cosa diversa si attualizzerà carneierena ignarri tu devo girare un film sulla tragedia dei miei concittadini messicani e di altri cittadini sudamericani che tentano di passare illegalmente il confine con gli Stati Uniti alla ricerca di del sogno americano dell'American dream di una vita migliore come la racconto questa cosa non la posso raccontare col cinema dice lui che come la big è un big della cinematografia no la voglio fare in realtà virtuale io l'ho fatta perché ho avuto la fortuna di essere a Milano nel 17 quando è stata presentata in anteprima al Festival di Cane poi alla Fondazione Prada però non ve la posso far vedere perché perché c'era un protocollo molto rigido tu la facevi questa esperienza ma non potevi portarti il cellulare non era in nessun modo registrabile e anche se cercate su Youtube non c'è nessuna esperienza quindi vi posso far vedere solo il trailer che vi fa intuire come Ignarri tu l'abbia congegnata usando degli attori presi proprio tra i migranti eccetera in realtà la parte della realtà virtuale è una parte di un politico prima ti fanno entrare in una stanza ti chiedono di toglierti le scarpe di toglierti le calze stai per un po' su un pavimento frigido che mima le heleras le camere in cui vengono le ghiacciaie in cui vengono messi i migranti catturati dalla polizia in un primo momento poi finalmente c'è una luce che si accende tu entri in una stanza che è quella che vedete lì in alto e sotto i piedi senti la sabbia multisensorialità allora io e la mia amica Paola siamo entrambi di Mantua e quando io ho fatto questa esperienza qui ho pensato subito a Palazzo T ho pensato subito alla Camera dei Giganti di Giulio Romano che se vedete oggi è una specie di protofumettone bellissimo in cui ci sono i giganti che vengono puniti dagli dèi e da Zeus e crollano sotto le rovine le macerie e tu ti senti incombere questo crollo questo rovinare del monte su di te ma cammini su un pavimento che sembra non averci a che fare con sta situazione infatti il pavimento è stato cambiato nel Settecento ma la stanza di metà del Cinquecento lo racconta proprio il Vasari che ci va a visitarlo un paio di volte come era fatta la stanza era fatta di sassi di fiume sassi di fiume che erano veri nel pavimento che a un certo punto diventavano dipinti e dice il Vasari non riuscivi a capire dove finiva il ciottolo vero e dove cominciava il ciottolo dipinto illusionismo Giulio Romano aveva smossato tutti gli angoli quindi non sembrava neanche una stanza ma sembrava un cilindro un panorama sostanzialmente quando io ho messo i piedi sulla sabbia lì alla fondazione del Prato ho detto io sono oggi l'erede come spettatore di quel Vasari che probabilmente se sarà entrato a piedi scalzi nella sala dei giganti di Palazzo Te avrà sentito sotto i piedi quel tentativo di suggerire anche già loro una multisensorialità perché questa idea di fare gli ambienti immersivi proprio sembra una cosa che tutte le culture hanno cercato di fare noi la facciamo con la realtà virtuale ma Giulio Romano nel 1500 la faceva con i sassi di fiume cosa succede quando sei lì dentro succede che sei virtually present perché tu sei la fondazione Prada ma al tempo stesso sei in un deserto messicano e sei physically invisible però perché tu non puoi fare niente lì cioè puoi guardare questo gruppo di disperati uomini donne e bambini e a un certo punto arriva l'elicottero arrivano gli Humvee scendono i cani i poliziotti urlano puntano i fucili una shotgun contro di te e è molto coinvolgente sono sei minuti ma davvero è una cosa e cosa dice Ignarito io voglio creare empatia ma empatia ne confondi di chi io quando ci sono andato era evidente che tutto era orientato per creare empatia verso i migranti ma se fosse venuto Matteo Salvini con me probabilmente avrebbe empatizzato con i poliziotti e i cani e gli elicotteri e le guardie di confine ora è anche questo un'ulteriore ingenuità pensare che lì ci sia ovviamente da empatizzare con i migranti ed è una cosa che si vede molto bene anche in una serie di video di cosiddetto immersive journalism di giornalismo immersivo documentario che ha realizzato Chris Milk per le Nazioni Unite vi faccio vedere questo che è la storia di una ragazza sidra di 12 anni che scappa dalla Siria in guerra e trova rifugio provvisorio in un campo profughi in Giordania cosa vuole fare Milk lui lo dice proprio ha fatto un TED Talk su questa roba qua e la potete ho quel video ma deve troppo lungo la potete comunque guardare su YouTube perché sono open access lui dice voglio portarvi da sidra farvi entrare nella storia non voglio mostrarvi un film un documentario voglio coinvolgervi non farvi stare alla finestra ma farvi stare dentro chiunque senta finestra non so se Milka abbia letto Leon Battista Alberti ma tutte le volte che voi aprite Windows dovete sapere che riattivate un antichissimo dispositivo teorizzato per la prima volta da Leon Battista Alberti nel 1435 nel suo trattato sulla pittura che dice ogni volta che io dipingo faccio un rettangolo e mi affaccio come se fosse una finestra e da quella finestra mi arrivano dei mondi che è esattamente quello che succede ogni volta che aprite una finestra di Windows una finestra di un programma del vostro computer si aprono mondi e poi riscompaiono quando la chiudete e Mil dice non voglio farvi stare alla finestra io voglio farvi passare la soglia della finestra entrare dentro in questo mondo è il motivo per cui quando io ho dovuto scrivere questo libro l'ho chiamato alla soglia dell'immagine che un conto è pensare la soglia come una barriera un conto è pensarlo come un passo carraio transitabile tu entri nel mondo certo poi devi anche aspettarti che dal mondo a un certo punto qualcosa venga in fuori venga verso di te con te tutto allora vediamo cosa succede un pezzettino racconta la sua storia come è arrivata in questo campo profughi quello che vedete sono io che mi giro dentro nella casco è un'altra esperienza che ho registrato di quella che ho fatto io ma che voi potreste fare in maniera diversa la qualcosa si diceva prima a pranzo con Silvia crea anche delle ansie perché è vero che io mi libero dall'imposizione dell'inquadratura di un pittore di un fotografo di un regista e me ne libero ma poi devo assumermi la responsabilità di quello che sto guardando e se sto guardando in un punto dove non succede niente le cose importanti come a volte succede esattamente nella vita accadono dietro di me mi libero dalla tirannia del regista e però devo assumermi la responsabilità di decidere dove guardare allora la vedete nel campo lei racconta con questa voice over la vedete a scuola la vedete giocare eccetera eccetera Milk dice io questa roba qua la porto ai potenti della terra la porto ai grandi meeting meeting i G7 Davos perché la porto ai potenti della terra perché i potenti della terra hanno il potere di modificare il destino di Sidra e di tutte le altre persone che vivono la crisi umanitaria io gli porto lì il mio video in VR empatizzeranno ed empatizzando si convinceranno che c'è da fare qualcosa e lui Milk insieme con i suoi collaboratori ha addirittura definito la VR come the ultimate empathy machine come la macchina definitiva per la produzione di empatia e dice we can change the world cos'è il problema però il problema è che è empatia questa se io sono amico di Paola e empatizzo con lei cosa vuol dire per sapere come sta io entro in una relazione dialogica cosa succede quando tu parli con una persona quando ti relazioni una persona certamente ci sono delle cose che ti aspetti che ti dica ma ci sono anche delle cose che ti aspetti che non ti dica o che non ti aspetti che ti dica c'è l'inaspettato c'è l'altro c'è l'altro che non sei tu l'alterità è sempre anche un orizzonte di sorpresa anche un orizzonte di fraintendimento noi ci continuiamo a fraintendere poi grosso modo alla fine ci capiamo ma la nostra comunicazione la nostra redazione è esposta al rischio qui dov'è questa dimensione quando io mi metto il casco e ascolto Sidra che parla lei mi racconta sempre la stessa storia io non le posso fare domande hanno provato perché sapete che potete porre domande a Siri potete porre domande ad Alexa e quindi potete porre anche domande è stato fatto a una sopravvissuto di un campo di concentramento nazista e qualcosa fa come intelligenza artificiale l'hanno addestrato a riconoscere certe parole chiave se tu gli dici quante volte ti davano da mangiare al giorno ti dice una volta le bucce di patate o ci si poteva lavare un campo di concentramento e ti dice non 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 era disponibile il sapone o roba del genere no però ovviamente se tu gli dici ma ti mancava la sacertorte che non potevi mangiare lui rimane spiazzato perché non ha tutte le domande avete provato con gli assistenti gli assistenti vocali non ti puoi neanche avvicinare a Sidra perché questo è un altro punto molto interessante che noi diciamo la realtà virtuale no le realtà virtuali ce ne sono tante ce ne sono alcune come questa che abbiamo appena visto in cui tu non puoi far altro che girare a 360 puoi decidere di guardare Sidra puoi decidere anche di guardare la porta della sua scuola la senti ma non la vedi più ce ne sono altre come carne e arena in cui puoi girarti intorno a 360 ma ti puoi anche muovere in quello spazio in quella sala piena di sabbia puoi avvicinarti ai poliziotti puoi allontanarti dai poliziotti puoi avvicinarti ai gipponi puoi allontanarti dai migranti ma non puoi fare niente ce ne sono altre questo è The Book of Distance del 2020 lui è il nipote di un nonno di origini giapponesi che si era trasferito in Canada per far fortuna e in Canada avevano comprato terreno dissodato il terreno costruito la casetta cominciato a coltivare il terreno poi cosa succede? scoppia la guerra Canada è alleato degli USA gli USA sono nemici del Giappone tutti i cittadini giapponesi in Canada vengono internati nei campi di concentramento le loro case vengono confiscate e passano veramente un periodo infernale sono considerati nonostante fossero ormai cittadini canadesi per il solo fatto che avevano origini giapponesi dei nemici dello Stato cosa fa Randall? cerca di ricostruire questa storia e la fa con dei media misti c'è un po' di animazione un po' di cartoni animati si potrebbe dire ma anche un po' di documenti fotografie del tempo molto bello dal punto di vista della ricostruzione archivistica e voi potete fare delle cose qui non siete passivi e costretti alla passività come in Carni Arena ma potete aiutare ad esempio a dissodare il terreno perché avete una mano dentro e con questa mano potete sollevare i sassi e fra un po' potrete raccogliere anche le fragole ed è un tentativo evidentemente di farvi fare delle cose e di stimolare la vostra performatività si potrebbe dire che aumenta la vostra partecipazione e voi siete lì con questi giapponesi e ne vivete l'ingiustizia perché poi arrivano i soldati arrivano le guardie li deportano in un caro bestiame la loro casa scompare eccetera eccetera allora possiamo davvero dire innanzitutto che ci siamo liberati dal tiranno dal regista che inquadra e inquadrando ritaglia e ritagliando esclude perché ti fa vedere e decide anche cosa non dovrai mai vedere è davvero vero se mi passate il gioco di parole che noi diventiamo più liberi ma chiunque abbia provato un casco sa che per non andare a sbattere con la testa contro il muro perché proprio non vedi più dove stai davvero ma vedi solo il luogo in cui il casco ti ha teletrasportato c'è un guardian tu devi disegnare lo spazio di azione ed è uno spazio di azione che tu disegni a seconda di come è fatta la tua stanzetta e devi stare attento a disegnarlo in modo tale che se tu dovessi nella interazione del gioco rischiare di andare a sbattere contro la parete ti si alza dentro nel tuo campo visivo una griglia una rete una gabbia una prigione tanto libero forse non lo sono ma poi ci sono altre cose che ti fanno pensare che questa libertà sia più promessa che non mantenuta innanzitutto viene cancellato lo sguardo di macchina tu dici la Biggerow che qui stava smanettando con il suo obiettivo highway way inquadrano ah nella realtà virtuale non c'è più inquadratura no c'è perché a seconda di dove Chris Milk ha piazzato la macchina 360 quella roba lì è una sua decisione autoriale è uno sguardo di Milk che si è incarnato nel punto in cui lui ha piazzato la macchina 360 e non è vero che tu puoi vedere tutto lo spazio è una promessa ti sembra di esserti liberato ma in realtà non ti puoi neanche muovere davanti a Sidra e quando ti puoi muovere nel mondo di Ignarito ad esempio nel deserto messicano ti puoi muovere ma è una libertà condizionata non è che davvero se aprissero le porte della fondazione Prada tu potresti camminare e arrivare fino in Texas c'è una limitazione e poi c'è una soppressione dell'interlocutore tu a questi migranti messicani non puoi parlare tu a Sidra non considera non puoi interagire è un registrato allora perché non ripetere di questi documentari quello che Roland Barthes aveva già detto della fotografia cos'è la fotografia? è quella roba che appartiene al passato il tempo verbale della fotografia diceva Roland Barthes nella famosissima camera chiara è il passato cioè adesso mi faccio un selfie e poi lo guardo subito dopo un nanosecondo quella roba lì che mi guarda dallo schermo del mio cellulare che sono io così giovane non sarò mai più perché sono io un secondo fa e così giovane è roba morta quella lì ecco perché dice Barthes ha detto anche la Zonta la fotografia è costitutivamente malinconica perché ha a che fare con un passato che io non sono più è la malinconia della vita che passa anche in un selfie figurarsi nelle foto ed è congelata quella sidra lì che mi continua a parlare della sua vita non c'è interlocuzione lei mi continua a ripetere stancamente da un certo punto di vista se la provo due o tre volte ho l'impressione sul momento di essere lì con lei ma chi mi sta parlando è un essere congelato e una volta quando i viaggiatori come Goethe facevano il viaggio in Italia si vantavano di essere dei viaggiatori e degli intenditori d'arte che avevano fatto l'autopsia autopsia l'autopsia cosa vuol dire prima di impararla in CSI o nelle serie tv che ci fanno vedere corpi squartati l'autopsia vuol dire l'ho visto con i miei occhi e si vantava Goethe di avere visto i monumenti italiani con i propri occhi dal vivo e non attraverso delle riproduzioni oggi diremmo attraverso delle fotografie allora c'era magari la stampa la litografia i disegni non è autopsia quella roba lì perché tu vai da Sidra ma non l'hai vista ne hai visto una registrazione hai visto qualche cosa che si è congelato lì come Jack Nicholson qui in The Shining allora questo 360 ecco perché è importante lavorare su questi oggetti che ci fanno delle promesse che hanno una retorica che hanno una ideologia che ci promettono un'empatia totale ma bisogna tenere gli occhi aperti cercare di capire davvero che cosa possono soddisfare di quello che promettono e che cosa invece è destinato a fallire è indubbiamente un'esperienza coinvolgente ma non possono convincermi del fatto che io grazie dei documentari del genere diventerò più buono perché non è l'autopsia di aver visto con i miei occhi una crisi umanitaria è l'autopsia nel senso questa volta sì della dissezione del cadavere post-mortem perché quella roba lì è rigidificata nella registrazione come è di un film come è di un documentario tradizionale come è di una fotografia direi che il silenzio assorto e concentrato parla da solo veramente Andrea mi assorcio e ne approfitto per vedere se c'è qualche domanda prima di essere l'intrusa di nuovo dei tuoi discorsi cedo qualcun altro questo compito è un grato vediamo se funziona allora bellissimo e volevo prendere spunto da alcune cose che tu avevi detto proprio all'inizio partendo da un autore che in qualche maniera amiamo tutti e due che è Roland Barthes il quale in uno scritto sull'ascolto come tu ben sai dice è ben più radicale che la libertà di parola c'è la libertà di ascolto che vuol dire essere liberi di ascoltare e di non ascoltare allora io ho la sensazione senza nessun intento di demonizzare niente ma di individuare il regressivo nel progressivo e ho la sensazione che molte volte il visivo il visuale sia una trasposizione dell'uditivo nel senso che con l'uditivo siamo sempre condannati ad essere in contatto cioè l'uditivo non è che io quando dormo lo spengo l'orecchio è sempre attivo e la mia domanda è come dire boh antropologica politica allora forse più che divisivo dovremmo parlare di esposizione visuale con tutto quello che ne consegue cioè è il terrore che nasce dal non poter dire questo non lo vedo quindi è un problema di vincolo visuale di riduzione della libertà ripresa dall'udito che poi come ben sappiamo è l'origine del visuale allora quindi la questione politica è il terrore perché quando io sono esposto e non riesco a non vedere cioè mi è tolta la libertà di non vedere non di non guardare la ricaduta è il terrore che si mescola certo con quella empatia un po' ibrida che tu giustamente sottolineavi no che l'empatia del manipolatore come tu giustamente l'hai detto allora sarebbe interessante rivedere la cultura visuale alla luce di questo come dire scambio di sensi nascosto invece di sinestesia di forse e certo all'interno della cultura visuale c'è tutto questo anche no perché la cultura visuale non è che si occupa solo della fotografia però forse vorrebbe la pena anche di individuare questa genealogia del visuale questa riduzione di libertà ecco il regressivo nel progressivo che ha come ricaduta il terrore l'altro giorno era venuto Mitchell aveva fatto la sua conferenza io ho detto molte volte noi continuiamo a rapportarci con questa realtà visuale ancora in termini di frontale ecco con i droni tutto questo è scomparso allora la mia domanda è si ma soprattutto io a Michele non volevo stare gli dissi il il drone equivale allo stuca nazista cioè lo stuca nazista come mezzo tecnico come cacciabombardiere era una ciofeica però era come il drone cioè uno non sapeva era il rumore dell'aereo l'attacco dall'alto un po' lo slottedag ci aveva detto però la domanda puntuale perché altrimenti facciamo è come comprendere ecco questa dimensione dell'uditivo nella cultura visuale con lo sfondo del terrore ecco grazie grazie di cuore Luca ma sono questioni davvero epocali uno perché ne parlavamo anche prima con Paola la questione dell'immersivo è una questione che andrebbe indagata prima nel suono che non nell'immagine pensate a quando hanno cominciato introdurre il Dolby il Surround quegli effetti di suono spazializzato per cui al cinema tu vedi l'elicottero là ma te lo senti arrivare da dietro e tutto questo ha a che fare credo con la natura del suono e anche con il nostro bisogno forse di riscoprire il senso dei sensi perché ci hanno detto tutta la filosofia del Novecento oddio la metafisica tradizionale ci ha consegnato i cinque sensi separati l'uno dall'altro e invece no la nostra esperienza è sempre sinestesica per cui io vedo un verde ma quel verde lì è diverso se è il verde del velluto se è il verde della ceramica se è il verde del vetro cioè vedo il verde ma in qualche modo quel mio vedere mi restituisce al tempo stesso ma anche lo diceva tra gli altri Merleau-Ponty una sensazione tattile un verde lanoso diceva sì d'accordo è vero che il verde mi fa vedere anche una sensazione tattile però è anche vero che i colori si comportano nei confronti del nostro corpo in maniera diversa dai suoni se io dico che le penne del gallo sono rosse quel rosso rimane appiccicato al gallo ma quando il gallo fa kikiriki come dicevi tu il suono pum parte e invade lo spazio si appropre dello spazio si diffonde nello spazio allora è sempre il gallo ma il gallo che canta fa un effetto che è diverso rispetto al gallo che ha i suoi colori delle sue penne che rimangono lì da lui che non vengono da me e se io li voglio vedere ci apro sugli occhi se invece non voglio vedere invece il kikiriki tu dicevi quando io dormo il suono mi invade e anche questo sono modi diversi di prodursi delle sensazioni e del nostro rapporto con gli oggetti che hanno immediatamente a che fare con il nostro corpo e quindi sempre anche con il nostro senso di sicurezza tu col terrore hai toccato un tema che mi è molto caro perché se uno studia un grande teorico dell'immagine come Warbur Warbur in questi appunti giovanili che non ha mai avuto il tempo il modo e la voglia di mettere in ordine c'era però una bellissima frase che campeggiava sul frontespizzo del suo quadernone ed era tu vivi e non mi fai niente cosa voleva dire tu vivi chi era quel tu l'immagine cioè l'immagine di un serpente ad esempio che mi fa paura però al tempo stesso posso dire è solo un'immagine non mi freghi non mi minacci non sono davvero in pericolo davanti a te e proprio questa mattina si vedeva la parodia della corazzata del film di Lumière la leggenda arriva la locomotiva in alla città alla stazione della Siotà il pubblico scappava che aveva paura che la locomotiva potesse uscire dallo schermo e travolgerli c'è una parodia di Super Fantozzi in cui Fantozzi dice ma no è solo un film poi trac la locomotiva lo schianta fuori dal cinema è solo un film è solo un'immagine Warburg era convinto che noi usiamo le immagini per tenere a base le nostre paure perché possiamo rappresentarci nell'immagine nel film delle cose terribili e però sappiamo anche che queste cose terribili possiamo giocarci possiamo imparare a conoscerle e le possiamo però imparare a conoscere in un territorio che è un territorio una comfort zone si potrebbe dire un territorio sicuro nel quale davvero non rischiamo la vita è un territorio di simulazione si potrebbe anche dire io penso che oggi la realtà virtuale abbia reeditato questo tipo di anche la planca da cui siamo partiti in fondo è l'esposizione è un pericolo che non mi potrà mai fare veramente del male c'è questo tratto di portarti sull'orlo di un'esperienza quasi reale la simulazione appunto e lì ti addestri in qualche modo conosci le tue paure interagisci con le tue paure e devi sperare di non essere davvero mai esposto fuori da una finestra al quarantesimo piano di un grattacè è la mancanza della cornice è lo scorniciamento allora forse c'è tempo per un'ultima domanda perché mi sa che siamo dopo ci sgomberano dopo ci sgomberano ci scorniciano fuori dal cinema allora io ti faccio una domanda diciamo di nuovo un po' dal nostro punto di vista anche ma come possiamo la questione in arritu alla fine certo c'è anche forse una questione di copyright però c'è anche come dire l'idea della vera appunto esperienza che se deve essere veramente esperienza non può essere fissata allora come possiamo renderli degli oggetti davvero di studio queste immagini e ambienti non rischiamo che le trasformiamo appunto di nuovo in immagini come hai fatto anche tu mostrandoci appunto l'esperienza col casco che le continuiamo comunque a ridurre immagini allora forse non era quello che in arritu voleva diciamo evitare allora io devo dire una cosa mi sento un po' in colpa perché per motivi di tempo ho fatto solo l'avvocato del diavolo cercando di mettere in luce le cose per cui la realtà virtuale non funziona o perlomeno promette qualcosa non credo che i ragazzi abbiano avuto questa impressione però vi faccio vedere proprio un secondo credo che ne hai mostrato molto tutto il fascino la problematicità e la complessità da uomini moderni visto che ci ti ammi insomma volevo farvi vedere proprio un nanosecondo chissà se riesco a trovarlo qua perché c'è tutto un mondo si chiudiamo con un piccolo video eccolo qua allora la realtà virtuale ci fa entrare in mondi esperienze che non sono umani è molto affascinante questo cinema ci ha provato tante volte pensate quando ti fa vedere come vede il mondo Predator o Alien le soggettive dei mostri che stanno al mondo in maniera diversa dalla nostra Predator che riesce a intercettare le sue vittime perché ha una visione termica come i serpenti che noi non abbiamo non abbiamo l'ecolocalizzazione di pipistrelli che sono capaci di muoversi nel buio perché non usano gli occhi ma usano le altre forme di orientamento nello spazio ora un famoso filosofo diceva noi non potremmo mai sapere cosa vuol dire essere un pipistrello lo possiamo studiare diceva Thomas Nagel dal punto di vista scientifico ma non possedendo noi un sonar non avremmo mai l'esperienza soggettiva di cosa vuol dire essere un pipistrello e se ci attacchiamo con i piedi in su la testa in giù come fanno i pipistrelli non è che per questo impariamo cosa vuol dire stare al mondo come un pipistrello perché non c'è il sonar perché noi per muoverci nel mondo usiamo gli occhi le mani se siamo ciechi ma non l'emissione di suoni il rimbalzo del suono la realtà virtuale cerca di come ha cercato in qualche modo anche il cinema a me piace molto certo cinema di serie B i B-movie tipo l'impero delle termite giganti e si vede John Collins che è ripetuta cento volte perché il film cerca di farti vedere come una termite vedeva John Collins ci riesce? no perché noi non possiamo uscire dai nostri occhi umani e non sapremo mai come vede il mondo davvero una termite o una formica gigante al tempo stesso però allude io direi asintoticamente come le parallele che impariamo all'elementare questa formula misteriosa si incontreranno all'infinito non si incontrano mai oppure si incontrano all'infinito noi incontreremo le termite all'infinito cominciamo a avvicinarci forse però ad un senso di cosa vuol dire vedere il mondo come una termite perché noi il mondo così non lo vediamo se io guardo una donna non la vedo moltiplicata negli occhi lenticolari se guardo il mondo non lo vedo così come lo vede Predator con una visione termica perché io non vedo chi di voi in questo momento ha la febbre non ho una visione di quel tipo lì e neanche il cinema ci riesce perché questa non è una visione termica è una visione termica tradotta in modo tale che la possa vedere un occhio umano sullo schermo mica vedo la temperatura lì però il cinema cerca di alludere e ci prova anche la realtà virtuale facendo dei caschi questi artisti berlinesi che hanno separato l'ingresso nel casco di realtà virtuale dell'occhio sinistro dall'ingresso dell'occhio destro noi non funzioniamo così a un piccione ad esempio mentre becca per terra il cibo con un occhio guarda dove è il cibo con l'altro occhio guarda se in cedo sta arrivando un predatore un falco perché il suo cervello ha la capacità di elaborare informazioni dai due occhi separatamente e così camaleonti anche e allora questi hanno fatto una cosa del genere in cui hanno cercato di farci capire come funziona una visione che non è umana riusciamo tra l'altro è pericolosissimo uno deve essere accompagnato perché non si è capace di gestire queste informazioni allora qui ci riesce forse no ti fa intuire qualche cosa sta cercando di farti uscire dalla tua gabbia umana forse sì e secondo me qui c'è una forma di empatia transpecifica ti fa volare un simulatore di volo sei capace di volare sai davvero cosa vuol dire volare dopo che l'hai fatto no perché non sei un uccello però hai fatto dei movimenti che non sono umani qualcosa hai imparato da questa situazione ti sei avvicinato diciamo così a cosa vuol dire essere umani e ci sono altri esperimenti cosa vuol dire essere ciechi cosa vuol dire avere l'alzheimer sono tutte modalità di uscire questo è diciamo così l'aspetto bright dell'empatia della realtà virtuale che cerca di farti uscire dal tuo guscio dalla tua bolla credo appunto che possiamo chiudere qua ringrazio lo scamo dell'arte per questa occasione davvero così preziosa e ovviamente grazie Andrea grazie Andrea Pinotti per tutti gli stimoli che ci ha dato oggi grazie grazie Paola grazie a tutti 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 grazie a tutti